Come ti immagini il regno dei cieli? La fantasia può volare libera quando pensiamo al regno dei cieli, infatti è una realtà spirituale e per questa ragione può essere descritta in modi diversi, ma una cosa è certa, è un luogo di pace, di gioia, di luce, è simile a un tesoro nascosto in un campo, sembra essere del tutto fuori luogo questa collocazione. A che cosa serve un tesoro nascosto nel campo? Certo serve per proteggerlo dai ladri, ma cosa ti giova avere un tesoro se non te lo puoi gustare? Il campo è la nostra vita, il campo è la nostra persona, è quello che io sono, il tesoro è dentro di me e non è fuori di me, non è nascosto per proteggerlo dai ladri, ma non riusciamo a vederlo semplicemente perché siamo ciechi, il tesoro è sempre davanti a noi, è sempre alla nostra portata, solo che non riusciamo ad afferrarlo, perché siamo distratti da tutto quello che sta attorno a noi, e mentre noi combattiamo e fatichiamo per conquistare i tesori del mondo, non sappiamo godere del tesoro che è dentro di noi. Lo lasciamo sepolto sotto terra, io cercavo il regno dei cieli guardando in alto, guardando in basso, guardandomi attorno, e invece dovevo cercarlo dentro di me. Il regno dei cieli è già dentro di te, sei ricco e non lo sai.